Vieni Marco, vieni a aiutarmi per favore Ti preannuncio? No, non preannunciarmi, no Eccoci qua, siamo arrivati finalmente, terza funzione del Serie di Amici, Annalisa Tutto bene, grazie Siamo contenti, siamo felicissimi di essere qua, Sive Sì, oggi pomeriggio ci siamo divertiti un sacco, ci abbiamo messo otto ore per prepararci E ci siamo divertiti Vi lasciamo con un grande saluto e ci scaldiamo E come sei professionale? Yes, professional, ciao ragazzi